E bentornati nel canale di Tamburello 92, siamo di nuovo qua con la campagna di Call of Duty Modern Warfare. Godetevi questo terzo episodio perché proveremo a catturare il famoso lupo, anche se non sarà facile, ve lo assicuro. Buona visione! E signori, rieccoci alla terza puntata della campagna di Modern Warfare. Attenzione, siamo qui per una soffiata che ci porterà a prendere, forse, il lupo. Entriamo, entriamo, entriamo. È arrivato Kang. Andiamo, 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 andiamo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Eccoci qua. Mettiamo la scaletta. Bella questa scaletta componibile, dell'Ikea. Sali, sali, sali. Via, 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 via. Considerando che ho dovuto rifare questo livello, perché la prima volta che ho registrato, avevo il microfono mutato. Ehi, ehi. Zitta. Ok. Tutti giù, tutti giù. Quindi, ovviamente, già ho fatto questo livello. Boom. Mi dispiace. Eh, lei aveva tutte le possibilità di andare. Andiamo, andiamo, andiamo. Bravo, sei. Avanziamo al primo piano. Forza. Tutti su. Piano, 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 piano. Sargento Mercarti. Mi raccomando. Capitano Valenton. No, caporale Valenton. Occhio. Occhio. Qualcosa mi dice. Sono qua. No, ferma, 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 ferma. Due ostili a terra. Ritavuto. Assicurati che il piano sia sgombro. Primo piano sgombro. Ai, 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 ai. Praticamente, giusto se vi posso spiegare qualcosa. Vedete questi specie di quadratini luminescenti che hanno i miei colleghi qua? Questi sono veramente usati dalle forze speciali. Servono per individuare, appunto, gli amici dai nemici. Vengono messi, di solito, nelle armi, nei caricatori, davanti, dietro e sull'elmetto. Vedi? Molto utile. Andiamo. Ehi. E dai. Ok. Adunata alle scale, forza. Avanziamo al terzo piano. Forza. Guarda che belle le smoke. Naste esalante. Attacca dietro. La bella bossettina dietro. E davanti, il capitano Price, alla camel bag. Che di solito si riempie con acqua, che si può bere, ovviamente. Occhio a dove sparate. No! Mani in atto, subito! Mi prego! Non so, mi prego! Sta ferma! Occupati di loro. Fa star tutto il bambino. Libero. Vai, 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 vai. Andiamo, 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 andiamo. Su, in questo piano. Cosa ci sarà? Chiusa. Ci penso io. Cerchiamo di catturarli vivi. Giù, sta giù! Ti prego! Volevo non uccidermi. Sta ferma! Mi hanno chiuso qui dentro! Ferma! Aspetta, ferma! Ecco cosa stava prendendo. Un detonatore! Attenzione, poteva fare una strage. Ma l'abbiamo fermata. Ma l'abbiamo fermata. Decisamente. Sappiamo dove si trova il lupo. Eccolo. Andiamo, andiamo. Facciamo la bella veloce. Forza, che già... Qui vado abbastanza spedito perché... Vi ripeto, l'ho già fatto e mi è... Non avevo attaccato il microfono, quindi vado abbastanza spedito. Sennò si è spaventato come un gattino. Oh, RPG. Andiamo. che dai Sì, va bene! Noi! 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 Sì! Noi! 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 Piano! No! 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 Avanti! Ogni tanto una granatina! Ci vuole! No! Saliamo! No! 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 E vai! Andiamo di qua! via 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 andiamo andiamo vai divertiti divertitevi ma si dai sparo ancora boom 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 ma vettore libero fino a un certo punto io vado sempre sulla fascia fascia sinistra andiamo di qua di qua di qua oh trovo io mi fa scappare dai e dai ora vediamo che facciamo e abbiamo un po' di galatine dai ma porca miseria ma che cazzo vado a fare ma non 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 nessuna traccia del lupo timono a caccia grex prendiamo quel pezzo di me ricordati che ci serve vivo 3-1 ricevuto maaa una k-47 intanto lo prendiamo perché guarda prima quando avevo registrato non mi ha più fatto nooo eh occhio ma faccio vai 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 Aia! Piano, piano! Vengo in pace, vengo in pace! Piano, piano! Aia! Aia! Attenzione! Ok, ok, ci siamo, ci siamo! Andiamo al primo piano! Questo lupo, andiamolo a prendere! La nostra battuta di caccia continua! Aia! E vabbè, io questo già l'ho fatto, dovevi sapere chi è, però... C'è uno che fa finta di essere un malato, e invece è uno di loro! Chissà mai, chissà mai, chissà mai, chissà mai! Guarda, mi sono fatto colpire anche sapendo chi era, guarda! Allucinante! Occhio! Andiamo! Andiamo! Via, al riparo! Avanti! Lo stronzo è ben protetto! Adesso in atteggiare le campanze delle spigole, una cosa scoperta delle misi! Uno è allo scoperto! Andiamo! Aspettate un attimino che mi riprendo 1 e 2 Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Musiamo la microcamera Vai attenzione Vai 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 Prendi quell'animale vivo Prendi quell'animale vivo Omar Sulaman Va bene, penso che per questo episodio possa bastare Ci vediamo con la quarta puntata Ora che abbiamo preso il lupo, riusciremo a tenercelo stretto? Vi aspetto alla prossima puntata, ciao!